La consulente MAPO è stata, detto, empatica, professionale, ha capito le tue esigenze? Sì, perché non... Ha rispettato le aspettative, cioè, magari è, esatto. Sì, esatto, e la cosa più difficile è quella di essere capiti, proprio capiti non solo nelle emozioni, quindi ciò che si sente, no? La disagio di... ma anche capiti proprio come, senso, come questi foglietti a quanto, ma anche i post-it vari che c'ho. Ha capito non solo a che cosa servono, quindi che materia sono, insomma, non sono, non è assicurazione, non è mutuo, non è un documento che è riconoscibile, come dire, sono appunti, quindi nel tempo. E ha capito anche l'affetto, diciamo così, la relazione tra me e questi fogli a quattro. E questa cosa non mi ha stupito, nel senso che poteva anche non essere così, poteva anche essere molto fredda, insomma, non capire, e invece no, mi sono sentita capita e non giudicata.